Sì, come potete vedere sono in un campo perché è arrivato il momento, dopo mesi, me l'avete chiesto in tantissimi Di Murubanji amici, ciao amici, io e Zako, oggi siamo venuti a trovare la Nicole al suo maneggio Come si chiama Nicole? Nicole, Valle Verde, e dov'è? Acalò, frazione di? Besana Brianza, in Brianza, ecco scusate, cos'è vero? Avete anche le info se volete venire qua a fare le lezioni di prova Oggi io, la Nicole, Zako, Andre, tutte le persone che sono qui, c'è un sacco che mi seguo come un cagnolino Ci esibiremo in un percorso ad ostacoli che adesso la Nicole e la sua amica andranno a preparare appositamente per me Oggi non cavalcherò a forsizia perché mi hanno detto che cavalcherò un cavallo nuovo quindi, che meraviglia Oggi cavalco un pony piccolo così, quindi andiamo a preparare il percorso e ci vediamo tra un po' Ciao, buongiorno, 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 no la mia videocamera è perfetta Io vedo che qua avete preparato delle cose per fare un bel percorso ad ostacoli Esatto Perché sai che sono bravissima a saltare gli ostacoli Allora, cameraman Cameraman Che capo Cosa pensavi? Ma tu di che cameraman eri? No Sentite, non sono, cioè... No, aspetta, fa vedere il cameraman in portaborse Quanto sei fashion Grazie Girati Non scambiamo Una, due, tre Eeeh, meraviglioso Iniziamo da cosa? Io non ho la minima idea Il trampolino Il trampolino Cosa facciamo con il trampolino? Non siamo in una palestra per fare ginnastica artistica Sali sopra Così Ah, e riscaldami Ma Non è l'occhio Lo mettiamo qua Lo mettiamo qua Mi spiegheranno dopo cosa bisogna fare Ci aiuti? No, lei sta solo guardando Lei guarda Ah, si parte da dove? Da qua Con questi Ci arriva con questo il trampolino Ma cosa ti devo fare con quella roba lì? Ma soprattutto non è un... Ostacoli No, sono i cavalli Eh, dove sono i cavalli? Non lo so Forse quel cavallo Ma te che provo a cavalli? Vai, cavalli, cazzacco Pronti Vai col percorso Vai Bravo Zacco No, adesso poi decidiamo Oddio Ehi Ma se noi lavoriamo Sai che cosa stai facendo? Cavalli, cavo Mi preparavo, scusate Noi lavoriamo Per la prima volta che sposta una cosa Quella lì Non so neanche cosa stiamo facendo Sto solo che ho paura Perché mi hanno detto che cavalli con pony nuovo Sai che ho scoperto Che portare tre borse Non è poi così tanto comodo Appoggiare sulla sedia Io vedo queste fare cose Vabbè Non mi preoccupo Faccio finta niente Tanto sapranno bene Che cosa stanno facendo Perché stanno infilando dei bastoni? Vabbè Non faccio No Nicola sembra una pefana Tra l'altro Amore Sei felice di essere venuto Dai cavalli Quanto sei bello Chi? È Zacco? Sì tu Le tazze Ok le tazze Sono queste le tazze per bere un tè? Ok Ma cos'è che sta facendo con quella roba? Sollevamento pesi L'agio del giavellotto Problematica Aspetta Ad ho ancora iniziato Adesso è tutto pronto Il percorso è pronto E andiamo a prendere Elvira Elvira Cioè io Savo forcizia Adesso cavalco Elvira Sarà brava Elvira Eccoci qui mia nuova amica Elvira Voi mi avevate detto che E che era un pony Questo non è un pony Questo è un cavallo Non è un pony No no Ma tu mi hai fatto scrivere che è un pony No no Non è un pony Non è un pony È cambiata È cresciuta È cresciuta Anche perché quella non è un pony Elvira I miei bubi e basta Nerdoverdose ragazzi Ti proteggeranno dalla cacca La nuova linea cats Che vi protegge dai morsi del cavallo E vedo che l'appendino è sempre umano Grazie E no aspettate Non posso entrare Senta Toc toc Elvi Quanti problemi hai Elvi Ah no Dici Lo so io Com'è? Devi fare Elvira Oh Devi lavorare Oh Non è che ti mantengo Per non fare niente Elvira non vuole Guarda Guarda Elvi Infila Stop Mettitelo Che cucciola Queste sono le redini Io tengo le redini Si no devi metterle su Aspetta aspetta Sono al contrario Così E per Ferma Ok brava Finito andiamo Adesso devi masticare qualcosa Allora se vuoi io lo metto io Ma tu li tieni Gli apri la bocca col dito Noo Allora Allora tieni Tira su Tira su Tira su Tira su Che pronta No cos'è che devo mettere in bocca? No Sabe tieni queste Vai infila negli orecchi Sono un po' corso Nicola non c'entrata Sì sì c'entrata Ah ne ho Brava Ma è sicuro che è tutto affatto E non entro È vero Sì basta 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 Arrivo fino lì Arrivo fino lì Non è che puoi metterli al fratto E questo nuovo qua cosa serve? Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Mi raccomando Devo diventare tua amica No Bene È pronta Un attimo Già non stai facendo niente Matti Ha iniziato a muovere la bocca È normale? Sì è normale Qual è la pizza? Adesso devi fare i zoccoli Andri non saprai mai distinguermi da lei Non voglio commentare la situazione Sabri i zoccoli Adesso ti tiro su questo No Nicola io non pulisco la cacca del cavallo No non puoi la cacca Devi pulire qua Scusa Così così guarda Eh fammi vedere tu Così Sì ti ho fatto così Fatto hai visto? No ma fanno tu No vai Facciamolo insieme Ma Sabri Facciamolo insieme Di cosa succede se non lo faccio? Sporri Corri No Esplode Che si è sfida E non lo pulisci Allora ne facciamo uno Ma come ne facciamo uno? Sì sì poi pulisce il corretto Ma No Devo metterla qua La sta facendo uscire vai Vai Sabri Guardate che Offrgli qualcosa No no siamo già gemelloti Fai i versi Sabri i versi Offri i zuccheri Guarda cosa ho nella tasca Niente Non si muove così Per dove l'ho da l'orecchio? No Hai nervi lì Per la prima Per questa roba? Sì No Questa Questa Ma te l'ha appena detto pure Non la cambia se lo faccio d'altra parte È abituata Adesso si muove Allora adesso dovrà essere La prende No 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 Devo pulirla Non scappare Devo pulirla È sporchissima È sporchissima Che? Tieni Non è che devi accarezzarla Devi fare forte così Pulisci la cacca eh Brava Ma c'è la cacca sul collo? È la cacca incrostata Veramente? Sì Sul collo? Eh sì Come fa a cagarsi sul collo? Ciratula Come zac Ti rendi conto che Savio non ti lavi tu ma lavi i cavalli? Se si lascia salta una cosa del genere Che schifo Dovevi mettere il suo vestito Ma dove si mette un vestito di Sasha? E lì? Porcava di cacca di cavallo di un birro L'altra volta L'altra volta Non passare dietro al cavallo che è pericoloso Lei cosa ha fatto? Non è passata dietro al cavallo No no Tanto guarda Nikki Può solo che migliorare Pulita Nicola Non è più cacca Non è che questo dato è pulito e questo no Non passare dietro al cavallo che è pericoloso È pulito qua Ma guarda che è un cavallo bianco Dove? Hai cacca quella? Eh sì Che cacca Ma che cacca di cavallo diventa pulire? Anche qua è sporca No Nicola fammi vedere come si pulisce Stai guardando bene Ah se avete bisogno di una donna delle pulizie Mia sorella vuole 10 euro l'ora E' bravissima di togliere le incrostazioni della cacca Bene vai Stella Oh no no sotto pancia Vuole bene Andre Adesso riprendi sotto Per me la metti al contrario No no adesso ragiona perché quella è la parte alta Questa faccia No ma la metta al contrario anche l'altra volta Appunto La metta al contrario Perfetto Ma no no lei monta così Ah ok Sì sì Lei non gli piace guardare davanti Ma guardate la forma Ma scusa ma qua è dove appoggi la serie Ho capito ma guarda la forma lì E' appunto Hai comunque torto Sabri Vedi A posto Io non la legherei neanche sai Sono stanca a mia mo casa Ho il tuo sotto pancia Ma hai detto il tuo sotto pancia Io te la metto a questa parte Tu lo allacci lì Primo terzo Ti ho offerto la pizza Io ti ho offerto il cavallo Non è neanche tuo Primo terzo Spiega Metti dei soggetti Primo terzo No Sabri Primo terzo Primo terzo Primo terzo È largo eh Eh sì Io farei un secondo quinto Ancora Anche sì abbastanza È finito? No Ma hai fatto primo terzo È larghissimo No è larghissimo Ah quindi ho stretto ancora A lei o io? Stringi ancora un po' Io Fai un secondo sesto Non è qua Non c'è scritto manco Nicole Davvero? Sì che c'è scritto Non quello Ah indietro Oh l'ha messo dritto Eh È strano Metto il cappello perché sto facendo delle cose molto difficili Allunghiamo le staffe Potremo allungare le staffe per piacere? Sì Allunghiamo le staffe E non perdere le staffe Mamma mia se non ti muovi Nicole perdo le staffe Nicky dammi l'elastico Non ce l'ho Ce l'ho di sopra Aspetta perché così ci concentriamo Così è da gara Sabi con la treccia Nicky posso fare la gara l'ho fatta la treccia Va bene allora puoi chiudire qua dentro Mi metto la mano è troppo qua Va bene ma tanto i cavali sono pali Andiamo Andiamo Allora Nicole sono pronta No Lo devo fare Per salire no Prima c'è riscaldamento Ok Devi fare dieci salti su quel trampolino Non posso Le stanno facendo zac Ma Salta Giù Ok No devi saltare con zac Sia obbligatorio No povero Via Uno Due Tre Quattro Cinque In alto Sei Sette Otto Nove Dieci Vede sei prontissima per salire sul cavallo Sono pronta aspettate Tre Due Uno Partita Va bene questo video sarà molto lungo Però almeno è felice il tuo cavallo Si è felice È più felice questo di questo Molto Guardate quanto è felice Arrivo lì Scusa Voleva farmi cadere No Se ti sto giustando Uno Tre Niki A posta È tirata No In realtà Vuoi spostarti te Ah E le calze Ah No Le calze così come me Ah Ti arrivi uno schiaffo sul culo per salire Niki Mi tiene le redini Niente Ma Oh Brava Nicola aiutami con l'altro piede Ah cacchio Ma in tre per far salire una persona è normale No Così Mettete il mio dentro Pollice in alto Non è che se puoi fare una corsa mi rompe Così Pollice così Non è che se puoi mi rompere Uguale lì Pollice in alto che prende meglio Ok Allora Com'erano i tasti? Se do una botta Se do una botta Se do una botta Il cavallo parte Vai prova E per fermare Fai Iiii Iiii Illustratemi il percorso Fatto voi a piedi Prima vai un bel giro Ok Per conoscerla Andre non ruido Vai 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 Che brava Che sei Elvira Gira destra Destra Guarda che pollici Devono guardare in alto Ecco Però le mani Iiii Saluto Allora Entra lì E gira Destro Ok brava Destra Iiii Perfetto Brava Ora Le mie insegnanti Mentre io sto la ferma qua Mi faranno vedere A piedi A piedi Il percorso Opla Sono tutti vecchi qua Vai Altro otto Altro otto è quello che ho fatto io adesso No Quello è il passo Sì vabbè Parti E vai ai cubi E scendi Vai Guardi Tu sai che insegniamo Altro otto Qua Scendi Sai Scendo dal cavallo Sì scendi dal cavallo Eh Scendi dal cubo Oddio Io ho avuto tanto spazzo No la devi tenere Pure E devi portarla con te E da qui sali Sul cavallo Sì Senza aiuti Ok Poi Riparti Ti fermi allo qui Al passo Prendi la tazza La metti È un bicchiere Non una tazza Il bicchiere La metti qua E fai questo Bevo Bevi Bevo Poi fai la girata stretta Che è una difficoltà enorme Tipo devo usare Sì 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 E più veloce che puoi Vai alla palla Scendi Sì E saltelli fino al traguardo Il cavallo Voglio farmi che col cavallo Esatto Farà barriere col cavallo Scendo Faccio tre saltelli E risalgo sul cavallo Con il vostro aiuto Ok Vabbè Con il vostro aiuto Allora adesso faccio il galoppo No il trotto No il trotto Ok però ti tengo eh Vai Vai corri Corri Furia Che trotto Ma per forza così Muova adesso Iiii Brava Brava Sono stacca Che trotto Sì bravo Uno Uno E tu Cosa vuol dire uno Uno E si deve Sare così Esatto E' così Ha capito Secondo me lo puoi fare Sì vai No no Subito col percorso Da qui Iiii Iiii Perché per scherzo Ti ha detto di farlo Allora Ma non si deve fare No La domanda va perché urla Aspetta Da direttore se mi riesco da bravo Bravissima È un po' di cacca In costata Qui percorso Altro otto Andre Poi devi metterti dietro E cui perché lei scende Da sinistra Da manco E si scende da sinistra A cavallo Tre Due Uno Vai Dai che c'è il tempo Dai vai Ma che tempo Tanno lo sta prendendo nessuno A cosa Ti la rendi Ma scende da qua Ma era tempo sta cosa Anche Vai sali sul cubo Con il cavallo Sì ma prendi il cavallo Sali Sì 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 Devo vincere il premio Sali Raga la ferma Che l'altro devi risalire Vieni più avanti cavallo Brava Sai che sei velocissima Ok La sto prendendo No Accorciale Scusa Prendile come ti pare Vai vai Brava Dov'è la tazza Un secondo Ma non era il galoppo No Aspettate perché io lo faccio più difficile Vai Vai Perfetto La bretella Redire La bretella Sterza No ma doveva bere No No Mettila dietro No indietro Avanti Marco Ok Trotta Trotta Non mette godere Non mette godere Non mette godere Vittoria 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 Vuoi lasciar giù la palla 15 minuti Quindici minuti Tutto il percorso Si fa in 8 secondi Stava bravissima Elvi Ci vorrebbe un biscottino per lei Non ce l'ho Adesso glielo andiamo a dare Andiamo a prendere Aspetta che la tengo un secondo fermo No 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 Ti tira via al collo Cosa stai facendo Nikki Siccome è stata brava Le dai l'erba Vai Amore Come sono andata insegnante Benissimo Potresti far l'istruttrice Sembra un po' di sarcasmo No Benissimo Qualcola da mettere a posto Però tutto il resto Nel senso che potremmo tornare A fare un altro Esatto Non è tutto Perché 30.000 like I settimana prossima Sfida contro la Nicole Cioè nello stesso campo Lei con il suo cavallo Io con o lei o forsizia Adesso vedremo E dovrò stare al suo passo Sta parlando ma non se ne sta accorgendo Di quello che dovrà fare Lei nel prossimo video E quindi mi raccomando Spolliciate Io ringrazio Questa scuderia Perché ora devo mollare il cavallo Perché vi farò vedere poi Nel video da Nicole Come cavalca Una vera cavallerizza Vi mando un bacio Adesso la porto Hello Hello Bravo Non so come girare Perché ho solo un braccio Solo Andre Oh mio dio Ok Aspetta ho un problema Non solo Non la faccio da sola Occhio che mi si ribatta Ecco così non si fa A scendere Ah Nicole No Le tasche Adesso secondo me brava Un bacio Guardi da qua sul muso Sul muso Brava Bravissima Mi hai supportato È stata una grande cavalla Ci vediamo sabato Quindi questo vuol dire Che la devo disellare io Sì disellala Ok Mentre il mio amore Fa la nanna in blanche E non è mica finita Perché nel prossimo video Del tuo canale Oltre a far vedere Quanto sei brava A fare gli ostacoli Farai vedere Come andava fatto Un vero percorso Certo Ma perché ti guardi le orecche Eh ma mi dà un fastidio Cacchio Vabbè nel prossimo video Ciao Nicole Troverete il suo percorso Salti enormi E il suo percorso di cavalli